Ennegan e Urban Outlet hanno un rapporto ormai consolidato da sette anni grazie alla fiducia che Guido ci ha sempre riposto. Fiducia che ad oggi gli siete meritati. Ho scelto Ennegan perché è molto vicino al sociale, utilizza energie rinnovabili al 100% e è molto attenta al cliente. Oggi ce lo dimostra. La politica Green di Ennegan con Urban Outlet ha fatto sì che come possiamo vedere nella bolletta abbiamo risparmiato una quantità di CO2 pari ad aver regalato due alberi nei giardini di Siena.